In questo nuovo video tutorial vediamo come è possibile creare delle prenotazioni. Gestotel ci offre tre modalità differenti per creare una nuova prenotazione. La prima è quella di premere direttamente sulla nostra tastiera il tasto F2. L'altra possibilità è quella di cliccare su questo pulsante, nuova prenotazione, oppure cliccare in una data di inizio prenotazione relativamente a una camera che il nostro ospite cliente decide di prenotare. Quindi supponiamo di voler creare una prenotazione a partire dal 5 ottobre per la camera doppia margherita e clicchiamo con il tasto sinistro del mouse. Ci esce il messaggio se vogliamo inserire una prenotazione in quel punto e premiamo sì. Questo è il form per creare appunto una nuova prenotazione. Supponiamo che il cliente decida di prenotare dal 5 ottobre al 9 ottobre 2011. Qui mettiamo tutti i dati del nostro cliente. Quindi in esempio Mario Rossi, via Milano, sono due adulti la città è Modena e qui possiamo mettere anche i suoi recapiti sia email che telefono. Allora, lo stato della prenotazione, in questo caso stiamo creando una prenotazione e quindi lo stato deve essere prenotato in automatico e prenotato. Nel caso il cliente ci confermi attraverso il versamento di una caparra che potremmo poi incassare attraverso Bancomat, carta di credito, contanti, attraverso una di queste modalità, ovviamente lo stato passerà in confermato. In casa è quando si effettua il check-in del cliente uscito una volta che si effettua il check-out. In questo caso noi stiamo effettuando una prenotazione, il stato della prenotazione è giusto che sia su prenotata. Ecco, il listino in automatico, il listino dei prezzi che si deve applicare in automatico cade in bassa stagione perché in questo periodo, il listino che comprende questo periodo è quello appunto di bassa stagione. Il servizio che la nostra struttura offre sono appunto i servizi che abbiamo creato in precedenza. E quindi sono i servizi di bed and breakfast, di mezza pensione, pensione completa e pernottamento. Supponiamo che il cliente decida di avere un servizio di bed and breakfast, le classi di sconto, stiamo effettuando le classi di sconto base, quindi in questo caso per gli adulti vi era uno sconto del 10%. Qui possiamo inserire anche delle note per quanto riguarda la reception, quindi che per esempio il cliente arriva alle ore 16.30 e facciamo su salva. Vediamo che esce già il preventivo di 72 euro. Perché 72 euro? Perché praticamente se andiamo a vedere il costo dei listini dei prezzi, in questo periodo quindi era un listino prezzi di bassa stagione, il servizio di bed and breakfast costava 20 euro a persona, per camera. E quindi, visto che il cliente sostanzialmente rimane nella nostra struttura 4 giorni e 3 notti, in totale sono 20 per 4 80 euro, ma applicando lo sconto del 10% otteniamo meno 8 euro, quindi 72 euro. E facciamo su chiudi. Vediamo che il nostro gestionale appunto ha creato la prenotazione che va dal 5 di ottobre al 9 di ottobre. Per poter modificare questa prenotazione si clicca una sola volta su questo rettangolo e con il tasto destro del mouse, anche qui vediamo che in informazioni, già Gestotel ci viene incontro e ci dà delle informazioni, per esempio per modificare lo stato, durato o altri parametri, premere il tasto F3 della tastiera, oppure per eliminare la prenotazione, premere direttamente il tasto F4. Se clicchiamo, quindi il rettangolo viene diciamo colorato di blu, con un contorno blu, premiamo il tasto destro del mouse e ci esce fuori questa finestra, quindi con la possibilità di poter modificare la prenotazione, eliminarla, creare una nuova prenotazione, effettuare il check-in o il check-out. Quindi supponiamo di poterla, di volerla modificare, perché il giorno dopo, o il pomeriggio stesso, il cliente ha versato una caparra di 20€, e quindi attraverso un bonifico, e quindi supponiamo di voler fare incassa caparra. In questo caso la caparra è stata incassata, facciamo salve e chiudi, e vediamo che in automatico sulla nostra prenotazione esce fuori il simbolo C, che sta per appunto caparra versata. In questo modo noi possiamo creare tutte le altre prenotazioni. supponiamo di voler creare una nuova prenotazione a partire dalla data del 6 ottobre sulla camera rosa, che è una camera singola, premiamo sempre sì su voi, scusate, su voi, e quindi e 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 Grazie.